Namaste, sono East Brave e bentornati ad un altro episodio di Darkest Dungeon direttamente all'azione con Gesù, a quanto pare che è stata la new entry da relativamente poco che sta funzionando molto bene, con Brattle che deve ancora prendere il nome se non mi ricordo male dai vostri commenti, gli altri due credo siano Roy Barrow e non mi ricordo l'altra chi è credo sia Lucy addirittura, vediamo un po' se andiamo a fare un po' di spesa qua in giro in questo livello non dovrebbe essere troppo difficile perché è cortina come cosa abbiamo un bel po' di esplorazione, a quanto pare abbiamo tutto di esplorazione ok, stiamo continuando ad esplorare tutto, cominciamo molto bene abbiamo l'esplorazione di tutto, complimenti, complimenti, se volete mettere un mi piace lasciatelo pure qua sotto c'è il tastone come sempre, vediamo un po' cosa facciamo, la prima volta che succede che troveremo una mappa completa di tutto, cerco di usare Brattle il più possibile in modo che abbiamo questo, mi stupisco appunto di Lucy che ha fatto forse la cosa migliore tra l'altro potrei anche tirarglielo via adesso appunto, visto che non mi serve visto che ormai ho tutta la mappa, evitiamo che le salga di più lo stress abbiamo un cultista, un cultista seguace e una medusa, vediamo un po' di spatacarli per bene iniziamo con la coltellata, andiamo di coltellata? andiamo di coltellata di sanguamento, tu vai di, ovviamente colpisci tutti che sono i primi 3, tu dovresti uccidere i primi 2, ottimo, molto bene e tu dovresti fare la sferzata sull'ultimo, sono 4 danni più ancora qualcosa, adesso vediamo e appunto dovrai cominciare a sfruttare, dicevo, molto meglio quando facciamo spesa in questa situazione dovremo sfruttare molto meglio la nostra antiquaria, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa ci mettiamo il bonus perché tanto questa dovremmo, cioè ha già fatto la sua azione per il turno quindi, uh, complimenti Brattle cominciamo a prendere questi cimeli che sono sempre molto molto utili per fare qualche soldino in più quindi andiamo via ancora, ok, continuiamo ad esplorare la nostra zona la nostra missione è quella di esplorare le stanze, quindi siamo molto molto tranquilli col fatto che abbiamo già tutta la mappa completa, questi lasciamoli pure stare mi interessa più che altro trovare tanti tesori, probabilmente potrei anche trovare una stanza segreta sto pensando se gliela rimettiamo su perché eventualmente troviamo una stanza segreta quindi continuiamo ad esplorare, vediamo di usare le nostre torce, tranquillo usiamo ovviamente la pala per tirare giù quel pezzo di nave un'altra torcia qua andiamo di tenerla pure teniamoci Brattle per l'esplorazione che magari interagisce con le varie cose come vi avete consigliato grazie per i consigli tra l'altro e le varie correzioni che mi date nelle varie cose io cerco sempre di, questo let's play è blind, cioè non mi vado tanto a vedere le cose ma cerco di ricordarmelo il più possibile perché molti di voi magari sono molto più avanti di me, hanno già finito il gioco quindi mi danno i consigli col gioco già finito, io cerco di non di fare la mia esperienza, la nostra esperienza in realtà della famiglia Antani quindi vediamo un po' se riusciamo a cavarcela di volta in volta, questo gioco è parecchio 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 difficile ma sto facendo anche tanti errori, questo lo so quindi andiamo un po' a andare avanti squarcio marino qua abbiamo Lucy che può fare ancora le bombette puzzolenti direi e quindi andiamo dietro ad attaccare loro prima possibile il nostro Roy Barro può sparare un po' a tutti no, spariamo a quello dietro che è un pochino più fastidioso e dovrebbe morire in questa maniera facciamo un po' di danno a quelli davanti perfetto così non abbiamo problemi di stress se muore quello qua andiamo di accoltellata su quello che c'ha più energia intanto ce la facciamo questo si becca un casino di danno da morbo tra l'altro questo si è curato ma dovrai riuscire a spataccarlo magari anche con la pistolettata infatti gran critico di pistola non succede quasi mai un critico con la pistola quindi molto bene vediamo di attaccare no, vediamo di curare intanto il nostro Gesù dovrebbe bastare a spataccarlo ho 16 danni molto bene e quindi andiamo pure avanti abbiamo anche una pagina del diario che vedremo di prendere la pagina del diario è il più oscuro dei destini quindi molto molto interessante se non sbaglio stiamo cominciando ad averli tutti ormai i vari diari e quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare stemma, lo mettiamo al posto dell'onice lo smeraldo al posto di questo dire che ci sta e quindi siamo al posto così abbiamo più ricchezza possibile insomma di quello che possiamo portarci avremo un sacco probabilmente di Brattle riuscirà a trovare un sacco di roba infatti vedo un'altra pagina del diario ok, la pagina successiva quindi abbiamo trovato due pagine molto attaccate una all'altra il cibo vediamo di usarlo per intanto non possiamo portarcelo via questa pagina del diario la mettiamo al posto della torcia se la uso o no ho deciso di usare questi perché effettivamente ho la torcia da usare mi sono accorto dopo che c'è lo spazio vuoto ok, vediamo di andare avanti di qua Lucy è abbastanza tranquilla la trappola la disinnesca a roi barro continuiamo ad andare avanti qua altro contenuto molto buono qua c'è un'altra trappola a disinnescare ed entriamo dentro questa stanza per adesso siamo belli tranquilli stiamo facendo anche spazio per i vari cimeli e tesori che troviamo quindi andiamo avanti abbiamo l'altra palla da usare ottimo che abbiamo liberato un altro slot dell'inventario questa non mi interessa potrei forse in basso rilievo meglio di no non so esattamente anzi dovrò cominciare magari a guardarmi i vari curio e ricordarmi effettivamente quali sono gli oggetti da utilizzare ma vedremo, vedremo a tutti i family quindi bene abbiamo due ancora spazi per gli oggetti quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa combattimento contro i briganti strano che ci siano in questo posto i briganti va bene andiamo ad iniziare con le bombolette puzzolenti che sono sempre utili è un'arma molto forte la bomboletta puzzolenta qua andiamo di sparo solo su di lui in modo che concentriamo un pochino di danno tu vai di accoltellamento no vai di si vai di coltellata sul primo lui c'ha 7 di energia è praticamente morto basta evitare ancora il prossimo tu vai di attacco normale c'ha 5 di energia quindi tranquilli lui c'ha 8 di energia quindi praticamente abbiamo già vinto se facciamo ancora un po' di danno ad area e soprattutto se colpiamo il primo allora tu vai di coltellata ah c'ha 1 di energia peccato pensavo di farcela un po' meglio spariamo tutti tu hai 4 di energia tu hai 7 tu puoi colpire solo il primo quindi a questo punto fatti un po' di cura questo muore e questo adesso si sposta e si becca un po' di danni con la bomboletta puzzolente riusciamo a farle ancora un pochino più di danno si prende 8 danni 8 danni e ci saluta un sacco di roba per noi possiamo prendere tutto a quanto pare compreso la chiave passport 2 l'osterica gigante forse ci vuole la chiave no non ci vuole la chiave penso ci voglia le bende no apriamole e basta ci sono tesori nascosti all'interno un po' di soldini avrei dovuto aprirlo sempre con Brattle ma va bene lo stesso vediamo di andare avanti un'altra torcia intatta bene 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 dobbiamo esplorare tutto meno 2 stanze 3 stanze non mi ricordo mai se se sono 2 o 3 quindi ci manca veramente poco tenendo conto tra l'altro che non abbiamo più combattimenti quindi dovremmo essere tranquilli a meno che non troviamo combattimenti a sorpresa o robe così continuiamo a disinnescare quello che possiamo quello che ci serve qua andiamo avanti così e andiamo nell'ultima stanza di teoria che ci serve tiriamo via il relito c'è un altro relito con quella che non abbiamo vanghe a disposizione ma direi che possiamo pure entrare qua dentro e abbiamo finito la missione quindi possiamo tornarsene pure e torniamo pure al borgo direi a sto punto ci sarebbe qualcosina di altro tesoro ma andiamo pure via così tranquilli andiamo via così tranquilli quindi missione semplice semplice abbiamo recuperato un sacco di roba un po' di cimeli non tanti ma soprattutto un pochino di soldi abbiamo fatto un po' di livellamenti con i nostri ragazzi piedi soldi testa dura bene tutte cose abbastanza positive fobia del dedalo non è che mi interessa più di tanto colpo d'occhio è un'ottima abilità peccato però perché sia una classe che non è che faccia tantissimo danno e ritorniamo indietro al villaggio con i ratti tra di noi addestatore di cani in attivo guadagna un livello di risolutezza al prossimo giornata abbiamo 38.000 soldi vediamo di preparare la prossima missione appunto con tra l'altro marina che si è curata gotrek si è curato kadrin si è curato star power si è curato insomma un bel po' di roba un bel po' di livelli ci vediamo quindi al prossimo episodio io sono haste brave grazie ancora della visione namaste be brave grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti